Dottor Necchio, a margine di questo importante riconoscimento della parte di Forbes, vuole da festeggiare qui i 25 anni di attività dello studio, i primi 25 anni di attività. I primi 25 anni, lo spieghiamo, ce ne saranno altri 25, attualmente siamo un organico di 51 persone, lo dico con un grande orgoglio perché siamo partiti 25 anni fa, io da solo. Tante tappe durante questo periodo, aspetti da migliorare, tanti successi. Sicuramente la chiave che ci ha portato ad essere dove siamo e che mi permette a me oggi di raccontare questa nostra storia sono sicuramente due persone. Alessandra e Cristina, che sono a capo la prima del Dipartimento di Child and Payroll, la seconda del Dipartimento di Accounting nel nostro studio, sono state veramente il catalizzatore e la chiave di volta che ci ha permesso di essere dove siamo oggi. Il nostro headquarter è a Padova, siamo poi presenti su Milano, abbiamo una sede a Bologna, a Cortina d'Ampezzo. Di prossima apertura a Roma e, come detto nell'intervista prima, negli anni a venire guardiamo una sede internazionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.